Diplomato in pianoforte al conservatorio. Dopo diverse esperienze come attore teatrale nei primi anni 2000 ha approvato la carriera nel mondo della musica, partecipando a varie manifestazioni locali e pubblicando senza successo tre album da cantautore. Dal 2005 si è dedicato al mondo del cabaret ottenendo diversi riconoscimenti, fra cui il premio al Festival di Cabaret Caba Wave nell'ambito della manifestazione Arezzo Wave, Love Festival a luglio 2005. Il premio della Critica al Festival Locomix di San Marino 2008 e il premio Originalità al Festival Locomix di San Marino 2007. Fa il suo esordio in televisione nel 2008 nella trasmissione Central Station, in onda su Comedi Central, partecipando alle prime due edizioni. Nel 2009 fa parte del cast di Colorado, dove presenta il corso per diventare cabarettista in 5 minuti. L'anno seguente passa a Zelig Off, e nel 2011 a Zelig. Nel 2013 crea il personaggio Ruggero dei Timidi, e pubblica su YouTube il suo singolo desordio, Timidamente Io. La musica del brano, come del resto anche il nome d'arte scelto, è chiaramente ispirata alla scena musicale italiana anni 60, in aperto contrasto con il testo che invece affronta in maniera demenziale un tema non, propriamente, leggero, come lo squirting. Il successo del brano è immediato, e lo porta a dedicarsi completamente al nuovo personaggio pubblicando numerosi altri singoli che, mantengono lo stesso schema musica leggera, testo demenziale. Nel 2014 partecipa al programma Tussico e Vales, classificandosi al terzo posto. Il 24 febbraio 2015 ha pubblicato il suo primo album come Ruggero dei Timidi. Intitolato Frutto proibito, che è entrato al dodicesimo posto nella classifica italiana di iTunes.